let's go agenti sono il vostro power di quartiere sono qui con un nuovo video su the division in questo caso per spiegarvi una cosa importantissima la strada il percorso che facciamo noi far al blood per poter acquisire più equipaggiamenti di visione possibili nel modo più veloce possibile per chi si chiedesse a cosa servono gli equipaggiamenti di visione beh servono per poter fabbricare alla stazione fatate quelli che sono gli equipaggiamenti e le armi più forti di the division in questo caso sono tutti oggetti livello 31 alta gamma e potrete anche utilizzare quelli esodici e quelli blu per poter fabbricare risorse per andare a creare queste cose alla stazione comunque iniziamo subito con il video per prima cosa dirigetevi alla stazione il firewall e poi andate a piedi fino al posto di blocco della z n3 che va proprio al limite con la z n4 come state vedendo qui nell'immagine una volta arrivati come è segnato qui nel video il primo posto che dovrete andare a vedere per prendere gli equipaggiamenti di visione è questo edificio in basso a destra potete vedere dove si trovano le due valigette degli equipaggiamenti della divisione bene ora ci dobbiamo spostare continuiamo dritti per la 42esima e poi giriamo andando sulla fifth avenue una volta qui continuiamo dritti e non entriamo in quel locale dove c'è scritto equipaggiamento di visione ma andiamo più avanti dove vediamo quei cassoni verdi e vedremo che alla fine della strada sulla destra ci sarà nascosto una cassa dell'equipaggiamento della divisione bene una volta preso torniamo indietro entriamo dentro l'edificio e troveremo ben due casse al piano terra salite le scale poi che si trovano sulla sinistra e troverete ben due valigette al piano superiore uno su come entrate sulla destra e uno nella stanza con i server sulla sinistra una volta prese le due casse di equipaggiamento della divisione dirigiamoci sulla 45esima sempre giriamo alla prima a destra per una zona contaminata quindi vedete di avere il filtro proseguite dritto per quel corridoio e tagliamo fino alla 46esima bene qui vedremo un'impalcatura con delle scale salite entrate all'interno e troverete in questo edificio dalle mura blu sulla sinistra una cassa equipaggiamento della divisione vi ho segnato anche sulla mappa il punto preciso ma c'è bisogno del video in basso a destra per farvi capire come entrare una volta fatto questo uscite dalla finestra che trovate che si affaccia sulla 46esima e prendete quell'impalcatura sospesa sul passaggio una volta fatto questo entrate nell'edificio di fronte e prendete un'altra cassa della divisione dove vi ho segnato proprio nella mappa in grande una volta fatto questo beh ora stiamo proprio nel momento più semplice più facile ora buttatevi di sotto andate in quella strada con tutti i cadaveri con tutti ovviamente i pezzi di plastica contaminati eccetera eccetera e dirigetevi nell'edificio che vi ho segnato dove ci sarà solamente una cassa equipaggiamento di visione ma non vi preoccupate una volta preso questo equipaggiamento di visione sulla 46esima prendete la strada che collega la 47esima con l'abisso più in alto e troverete sulla sinistra subito sulla sinistra una cassa equipaggiamento di visione una volta presa questa cassa avrete l'abisso sulla vostra destra e sulla sinistra una stanza di sicurezza andate verso la stanza di sicurezza e sul muro alla vostra sinistra troverete un'altra cassa equipaggiamento per quanto riguarda l'abisso il mio consiglio se vi volete sbrigare dato che è pieno di nemici tenetevi una super della difesa prendete passate in mezzo a tutti i nemici andate a prendere questa cassa equipaggiamento che state vedendo in basso a destra e poi scappate andando verso l'alto mentre stai andando verso l'alto ricordate che prima di arrivare all'edificio q dove sapete che ci sta un altro world boss della zona nera a livello 6 avrete un'altra cassa sulla sinistra bene ora dirigiamoci nella zona di estrazione della zona 6 mentre ci dirigiamo verso la zona di estrazione sulla destra vedrete che ci sarà un passaggio che collega con la 55esima la 53esima con la 55esima bene ci saranno forse dei nemici quindi eliminateli passate lì e troverete sulla destra infrattata come state vedendo in basso a destra un equipaggiamento della divisione una volta preso questo equipaggiamento della divisione bene torniamo indietro e avviamoci verso la zona di estrazione dove troveremo in quell'edificio ben quattro casse troveremo tre casse al piano terra una esterna e due all'interno per quanto riguarda quell'esterno vi consiglio di tirarvi un sovrascudo attraverso la cura overdose perché potrete incappare nei cecchini che sono sulla fine della 6th avenue e quindi vi potrebbero uccidere quindi tiratevi magari un sovrascudo prendete la cassa e poi subito sgattaiolate dentro a prendere le due casse come state vedendo qui dal video in basso a destra una volta fatto questo andate al piano di sopra utilizzando la fune in questo caso prendete anche questa quarta e ultima cassa e dirigiamoci più avanti per il continuo bene ora ci stiamo avviando alla fine mancano solamente quattro casse una la troverete come vi calerete giù e andrete sulla 55esima strada andate ovviamente sulla strada che vedete ve l'ho segnato il punto guardate in basso a destra dove si trova perché queste casse sono molto infrattate quindi cercate di seguire il video in basso a destra mi raccomando praticamente qui si trova la prima cassa la seconda si trova poco poco più avanti è sempre imboscata come la prima non ci si può fare niente quindi una volta presa anche quella cassa continuate per la strada sempre sulla 55esima fino ad arrivare all'incrocio con quella che dovrebbe essere la settima se non mi sbaglio una volta arrivati alla settima avrete un gruppo di nemici gialli tra cui due cecchini eliminateli avrete una cassa sulla vostra destra infrattata vicino a una porta e poi girate a sinistra andate giù verso la settima mentre state scendendo sulla settima avenue praticamente troverete un'altra cassa infilata su una sorta di vicoletto nascosta alla vostra sinistra lungo il muro bene ora che avete trovato tutte le casse avete preso tutti gli equipaggiamenti di visione uscite al posto di blocco teletrasportatevi al firewall una volta arrivati al firewall il rifugio che si trova sulla destra a cui avevo fatto andare all'inizio chiudete l'applicazione di the division rientrate dentro rifate il giro riprendete tutti gli equipaggiamenti di visione in constituazione perché cambierete ovviamente server e sarete così ricchi e potrete craftare tutte le armi che vorrete potrete cercare i talenti più forti e perfetti per la vostra arma o per il vostro equipaggiamento spero che questo video vi abbia aiutato spolliciatelo fatelo vedere a tutto il mondo e spero vi possa aiutare let's go agenti ciao ciao ciao